esploriamo lo stivale siamo partiti dal sud abbiamo delimitato la zona di produzione della mozzarella di bufala campana di opi adesso ci spostiamo nel nostro magnifico nord est per parlare di prosecco doc allora anche a lei comincio col chiedere che cosa porta questa sinergia tra consorzi porta una maggiore efficacia nei consorti tenendo conto che i consorzi che ciascuna denominazione ha programmato vedrà la verifica sia delle produzioni del consorzio stesso che del consorzio in qualche modo gemellato per cui la mozzarella di bufala campana effettuerà i consorzi per la propria denominazione andando implementare in quei consorzi la verifica sulle produzioni di prosecco doc e viceversa da parte nostra quindi una maggiore capillarità e soprattutto la capacità di agire sui propri territori e quindi avere una maggiore conoscenza di quelli che sono in qualche modo i player che in qualche modo possono essere più sensibili al porre ad essere diciamo frodi e quindi una maggiore conoscenza del territorio quindi degli accessi mirati e dei risultati sicuramente più efficaci ecco ha detto bene qui è uscita fuori la parola chiave frodi allora per quanto riguarda il nostro territorio diciamo che noi ne che siamo a rischio in casa nostra il problema sussiste nasce quando il nostro prodotto viene brutalmente imitato all'estero abbiamo visto il caso della mozzarella di bufala campana di op vediamo il caso del prosecco doc ma diciamo che innanzitutto va va detto che per essere credibile all'estero dobbiamo esserlo principalmente a casa nostra ecco perché noi dobbiamo essere in grado di assicurare nel momento in cui facciamo interventi in paesi terzi di avere passatemi il termine la coscienza pulita quindi non dobbiamo essere un paese a frode zero gli esempi sono assolutamente irrisori rispetto a quelli che verifichiamo in altri paesi però esistono e soprattutto se c'è un sistema che se non sa di essere sottoposto a controlli ferrei tende sempre ad uscire in qualche modo di carreggiata e gli esempi eclattanti che abbiamo riscontrato utilizzo in paesi dell'est della denominazione prosecco per etichettare produzioni assolutamente diverse e l'utilizzo ad esempio del termine prosecco sul regno unito per la vendita di vino frizzante alla spina questi gli esempi più eclattanti nella doc del prosecco anche qui numeri io direi davvero eclatanti io vorrei con lei andare oltre l'attività di vigilanza quella che comunque bene avete evidenziato oggi per parlare proprio della situazione del consorzio non solo ma proprio di questo prodotto che stagione sta vivendo sta vivendo una delle stagioni più positive che si siano mai riscontrate a livello di produzioni enologiche nazionali stiamo parlando di una denominazione che ha raggiunto il volume di 410 milioni di bottiglie certificate nel 2016 con una produzione che coinvolge all'incirca 20 mila ettari su due regioni nove province per un totale di 12 mila viticoltori e questo è interessante sapere che la superficie media è inferiore ai due ettari quindi questa denominazione ha portato un benessere diffuso sul nostro territorio stiamo parlando di 1200 vinificatori e oltre 300 case spumantistiche quindi un valore anche da un lato economico e sociale davvero ragguardevole chiudiamo con una battuta che in realtà battuta non è uno sguardo al futuro a gennaio puntualmente si verificano previsioni ed oroscopi vogliamo fare l'oroscopo del prosecco doc per il 2017 con le mani dietro la schiena le dita incrociate sempre diciamo che noi ci attendiamo i trend potrebbero essere ancora più lusinghieri noi ci limitiamo a stimare la crescita per l'anno in corso su quella che è la stima della crescita del comparto sparkling a livello mondiale quindi tra il 5 e il 7 per cento analoga previsione avevamo fatto l'anno scorso l'abbiamo doppiato con nostra grande soddisfazione però ci piace che una crescita sia anche sostenibile non solo dal punto di vista ambientale e non da un punto di vista evidentemente economico ma anche sociale dobbiamo tenere conto anche delle sensibilità che il territorio esprime per una produzione che sta diventando realmente significativa per questo territorio Grazie a tutti